... Ragazzi, io non ci sai, io vado a passare il piano. Io vado a passare il piano, io vado a passare il piano, non vado a passare il piano. Io non per dire, però non mi sto a entrare. Luca, non mi sto a pagare solo con la C. Io non ho mai avuto il piano, ma... Dai, io già. Sì, 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 ci sono. aspetta chi è che non riesce ad entrare io sono dentro chi è che non riesce ad entrare chi è che non riesce ad entrare io invitato zucca 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 tutto scolettere grandi stasera stasera è cominciata male e finisce peggio chi è che non ti fai il piero o ti mando l'invito prova un po piero come non ti fai entrare pie ma a me me l'ha chiesta suca ss di savona u di udine di di domo ossola a biancona tutto grande a t al cd como scusa venga stasera stelai ragazzi questi pigliano per scemi a livello mondiale non lo vedi ma il caso dove hai inizio ma le dio bianco non lo vedi ho non lo vedi ma poiché tu succa chieda sono c'era di chi ma non mi ha avuto se ti scemi sono non lo vedi 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 abbiate le librette proprio Sì ragazzi, ho fatto un certo momento di essere qua nel mondo Mi sono arrivato a tutti i soldi, ho finito la mia famiglia, mi sono andato a me e mi sono andato a me, e mi sono andato a me, e mi sono andato a me Io ci sono anche ritardi, e non mi pensavo che non lo so Non lo so, non lo so, dobbiamo sbagliare, non lo so, non lo so 16 in più allunga la sezione vabbè buona serata non 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 Sì, sì, sì. Perché quando stanno uscendo non vi fa uscire, dovete aspettare il transito delle altre auto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.